Impegno casalingo per l'Alba Verde e Caltanissetta per la decima giornata del campionato di volley femminile. Le giocatrici nissene saranno di scena al Palacanizzaro sabato 10 dicembre contro la Saracena, dove tenteranno di consolidare il primato in classifica e cercare di inseguire l'ennesimo 3-0 stagionale. La classifica del girone M, appena superato un terzo del percorso, comincia a definire le posizioni in testa, con le prime tre squadre racchiuse nello spazio di due punti e le inseguitrici della squadra nissena, ovvero Zafferana e Pallavolo Crotone, giocheranno entrambe in trasferta. La prima in terra calabra contro la Gioiosa e la seconda a comiso contro l'Ardenz. Ma ecco il quadro completo della decima giornata del campionato di volley femminile serie B2 girone M. Cuscatania Funivia Etna, Alba Verde Saracena, Stefanese Procoria Ricina, Gioiosa Zafferana, Planet Brico City, Fidelis Torretta Volley Region, Ardenz Comiso Pallavolo Crotone. Sabato pomeriggio, oltre il match casalingo del Palacannizzaro contro la Saracena, l'Alba Verde avvierà una raccolta di giocattoli nuovi o usati, da regalare ai bambini più bisognosi. La società, presieduta da Oriana Mannella, invita i Nisseni ad aderire a questa iniziativa benefica che sta particolarmente a cuore alla società nissena dell'Alba Verde.